Ciao ragazze, bentornate a tutte. In questo video voglio parlarvi dell'esperienza al Color Lab Deborah Milano 2. Si tratta di un evento che si è tenuto il 20 settembre 2013, naturalmente. Il 20 settembre scorso sono stata a Milano per questo workshop, evento full immersion all'interno dell'azienda Deborah Milano. Sono stata gentilmente invitata e insieme a me hanno partecipato a questo evento tantissime youtuber e blogger. Inutile spiegare l'emozione che ho provato nel conoscere tutte le ragazze, le saluto se mi stanno seguendo. Dopo tre anni, vederci tutti insieme, incontrarci, condividere la nostra passione, attraverso un pc è bello, ma di persona è ancora più bello. Si ricrea un'area davvero familiare, bella, che ci accomuna tutte. Il tema principale dell'evento Deborah Milano era il colore. L'esperto makeup artist Luca Manucci ha ricreato un look su una ragazza, ci ha fatto vedere come valorizzare al meglio, ci ha spiegato tutti i colori, come dobbiamo utilizzarli in base al nostro incarnato, al nostro colore dei capelli. E' che ognuna di noi dentro di sé ha una stagione, una stagione che viene espressa in base ai colori degli occhi, dei capelli. E' stato interessante anche scoprire lo studio del prodotto. Noi a volte non ci pensiamo, ci rechiamo in profumeria, compriamo un prodotto senza sapere cosa c'è dietro, il lavoro che c'è dietro. Quindi la sperimentazione del colore, cosa interessa di più la ragazza, cosa cerca in un prodotto, l'ideazione del packaging. Quindi tante cose che davvero sono interessanti ed è bello conoscere. All'evento hanno partecipato tantissimi youtuber che conoscevo, quindi per me l'emozione era fortissima. Quando ho conosciuto Giuliana Makeup Delight, è difficile spiegarlo, sono stata felicissima. Dopo tre anni che segui ragazze attraverso un pc, vederle di persona, conoscerti, condividere la tua stessa passione, è stato davvero fantastico. Quindi Luca Manucci ci ha spiegato tutti i look per mettere in evidenza il nostro incarnato, per mettere in evidenza i nostri occhi, il nostro colore di capelli. Ci ha spiegato quali colori usare e quali colori è meglio non usare per quanto riguarda i nostri tratti somatici. Ci ha fatto vedere anche un look davvero molto molto carino, che sarà anche di tendenza per la stagione autunno-inverno 2013-14. Quindi un tutorial dal vivo, ho registrato qualche parte come potete ben vedere. E poi abbiamo ricreato noi un look su un foglio. Io non sono esperta di make-up, quindi mi sono cimentata in questo campo. E alla fine ci ha detto di ricreare questo look, un look che di solito non facciamo mai su di noi, di ricrearlo su di noi. Io ho capito che devo utilizzare gli ombretti colorati, lo sto già facendo, oggi ho un marrone sugli occhi, quindi facciamo progressi. Quindi ragazze, è stata un'esperienza davvero bellissima. Auguro a tutti voi di partecipare un giorno a eventi del genere. È possibile anche candidarsi per partecipare, ci erano molte ragazze. Non è importante avere tantissimi iscritti, ci si può candidare e l'azienda poi vi manda l'invito. Subito dopo ci siamo spostate per la pausa pranzo in un'altra saletta, dove c'era anche un giardino. E c'era un buffet davvero molto molto bello, così bello che è un dispiacere mangiare. I cupcake colorati, mi dispiaceva rovinarlo, quindi ragazze, a parte tutto, è stata una giornata davvero fantastica. Ci tengo a ringraziare ancora l'azienda Deborah Milano, che mi ha gentilmente invitata. Quindi io vi rimando al prossimo video tutorial, un bacione, al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!